Ciao ragazzi, come state? Per la serie Un Salto in Edicola oggi andiamo ad aprire questa busta di surprise Lovely Surprise di Pompon Edizioni di Santoro Gorgeous Il packaging è fatto tutto in carta, bellissimo mi piacerebbe quasi anche ritagliare questa figura, guardate, è troppo troppo cute e dall'altro lato troviamo la stessa immagine con il prezzo, allora questa bag, perché non si è una borsa è bimestrale questa è la numero 3, ci dice e viene 9,90€ ed è uscita il 30 di giugno penso che conterrà un po' di cose vecchie insomma, perché di solito sono queste le borse, con tutte le borse appunto sono le cose vecchie però appunto che non sono riuscite a vendere e quindi le ripropongono in questa box surprise bag surprise ecco e ha un prezzo ovviamente molto ridotto stavo notando anche adesso ve lo faccio vedere un po' meglio che sullo sfondo ci sono tantissime parole vediamo se si riesce a vedere non so sì, sembrava che si vede bene allora respectful lovely kind happy quindi tutte parole grateful quindi gratitudine rispetto gentilezza felicità e bello insomma molto molto un mood molto positivo bello mi piace allora bando alle cianci ora vado ad aprirla sperando di non rompere tutto allora ho i miei dubbi di riuscire ad aprirla senza rompere tutto aspettate un attimo ok ops ecco fatto non immaginavo e non sono ancora riuscita ad aprirla di tutto allora vado a prendere un pezzo alla volta così scopriamo cosa c'è allora la prima cosa che ho trovato è questo my fashion book con più di 100 adesivi qua è coperto il prezzo presumo e hanno attaccato le tichette questi sono i resi che fanno le varie vediamo questo è uscito il 12 11 11 boh non si capisce niente si sono le varie cose che 4,90 loro lo mettono ma il suo prezzo originale che poi dite che te frega il prezzo originale però insomma sono curiosa no non si riesce si spacca tutto lasciamo così comunque si sono cose appunto riproposte allora all'interno tanti partner gorgeous e craft da ritagliare vediamo com'è qui abbiamo la binda carino disegna il cappello crea le scarpe per il tuo completo palette colori usata appunto per colorare dai un voto a ciascun outfit è tutto tutto da disegnare è carino guardate anche questo usa le carte pattern che trovi nel libro per vestire i tuoi modelli quindi qua è appunto il modello guardate anche qua belle e qua abbiamo wow tutti gli adesivi con i vari vestiti gli accessori qua questi sono i partner bello che carino che è là e qua abbiamo un test il fashion test cappelli creativi quindi qua bisognerà disegnare un cappello qua abbiamo il gioco altri giochi e qui un altro test qual è il tuo accessorio porta fortuna sarà la tua data di nascita dirtelo ok vediamo il mio mese di nascita quindi luglio blu il giorno in cui sei nata il 2 quindi degli orecchini pendenti blu non ne ho a dire il vero credo di no però carina come idea simpatica allora quindi questa è la prima cosa che ho trovato nella bag proseguiamo cosa abbiamo un color art book con pagine da colorare e tanti adesivi carino più presumo sia no dalle immagini iniziali sembrava tipo tema invernale taglia il poster lungo il tratteggio che carino bellissimo le pagine sono anche abbastanza spesse ah qui abbiamo anche degli adesivi wow carini molto molto carini qui abbiamo un altro poster da ritagliare quindi da finire di colorare e poi ritagliare io adoro questa e questo è un altro carino poi la rivista di natale allora questa è 2021 2022 quindi dicembre febbraio e questa ce l'avevo già l'abbiamo già anche vista però questo gadget non l'avevo mai preso quindi sono contenta guardate che carino è un stationary set quindi abbiamo all'interno il quadernino la gomma e le due matitine molto molto carino e questo è quello di natale beh ve lo faccio scorrere veloce ma l'avevamo già visto per chi mi segue appunto l'aveva già visto qua per creare un calendario dell'avvento addobba il tuo albero un anno pieno di nuovi obiettivi le impronte super cute poi sei una brava pasticcera qui c'è il calendario bellissimo del 2022 infatti l'ho sempre tenuto in bacheca guardate che bella da colorare dona allegria con dei pacchetti speciali qui un po' di accessori invernali piangere fa bene poi vediamo la storia il canto di natale poi erano poi le prossime uscite la lettra di babbo natale poi non è ancora finito abbiamo questo libricino che è un po' rovinato sono quei libricini da colorare con il pennarello magico ah si eccolo qua magic color dai ragazzi è una vita che non lo faccio proviamo a fare a fare questo un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.